Eccoci qua, allora oggi vi condivido un po' delle mie esperienze, vi do qualche suggerimento importante questo canale che ritengo sia un canale molto intimo perché è per pochissimi proprietari quelli più lungimiranti che hanno avuto modo di capire che ci saranno delle chicchette divertenti quindi intanto ve ne do qualcuna e stavo cercando di spezzare la noia perché altrimenti parlare di argomenti seri dopo diventa noioso allora per chi mi conosce sa che sto lavorando tantissimo su me stesso perché è importante lavorare su se stessi perché se vuoi dei risultati eccellenti, se vuoi successo, se vuoi raggiungere un certo piolo sulla scala del successo deve avere una mentalità di un certo tipo. Lo stesso è per voi signori cari proprietari perché se volete raggiungere determinati obiettivi, avete un sogno nel cassetto, avete dei desideri profondi e li volete raggiungere, sapete che non dovete aspettare dagli altri l'aiuto cioè gli altri certo vi possono aiutare in una certa fase della propria vita come io aiuto certi proprietari nella loro fase della loro vita, naturalmente però in primis bisogna essere capaci di aiutare se stessi. Che cosa intendo? Intendo che se voi non crescete a livello fisico, mentale, spirituale, di felicità, di ricchezza interiore, di sé cioè dovete... è un po' diverso, l'argomento è molto forte però se voi non avete una crescita vostra, aspirate a un percorso non arriverete mai ad avere un grande successo sì, vi accontenterete del più o del meno, sarete sempre lì sul filo dell'erasoio ma esprimere se stessi, signore e signori è tirar fuori da dentro di sé tutto quello che si può tirar fuori, il meglio magari ognuno ha la propria strada, io ho la mia l'obiettivo è di aiutare 100.000 proprietari in Italia perché essi siano felici, perché abbiano un conto corrente il più grosso e gonfio possibile perché non abbiano noie con i loro inquilini insomma il mio perché è molto molto forte la prima domanda che ti devi fare è perché tu stai facendo quello che stai facendo e adesso arriviamo un po' alla volta anche al nocciolo sto cercando di usare le parole semplici quindi fatti questa domanda perché vuoi arrivare dove vuoi arrivare? cioè a te mi dirai sì per i soldi ma perché per i soldi? per aiutare tuo figlio, per aiutare tua figlia per avere una vita più dignitosa per avere la libertà finanziaria per smettere di lavorare perché vuoi esprimere te stesso perché vuoi girare il mondo e perché possono essere davvero davvero tanti e per esempio dei tanti locatori che conosco quelli con cui ho più confidenza loro hanno creato tutto quello che hanno creato per la loro sicurezza per avere un giorno la loro tranquillità e sapere che se avevano bisogno potevano contare sul loro patrimonio queste persone spesso, questi locatori da piccoli hanno dovuto sempre arrangiarsi tirarsi sulle maniche e far da soli cioè e quindi per tutta la vita hanno dovuto anche aiutare gli altri principalmente le altre persone e quindi hanno detto un giorno quando io sarò vecchio o vecchia voglio essere in grado di essere autonoma di aiutare me stessa di prendermi cura di me stesso o di me stessa e quindi avere qualcosa per me di sicuro e gli immobili gli davano questa sicurezza perfetto poi ognuno ha la sua storia naturalmente quindi come puoi fare per raggiungere una vita felice una vita serena avere il controllo di tutto quello che ti succede intorno allora tutto quello che ti succede intorno naturalmente è il frutto delle tue scelte cioè quello che hai scelto oggi determinerà quello che avrai domani hai messo al mondo dei figli hai voluto naturalmente mettere al mondo dei figli stai facendo quel lavoro vuoi continuare a mantenere quel lavoro? te dici ma io lo voglio cambiare allora cambia, inizia inizia da qualche parte come iniziare? con piccolissimi passi non serve fare un passo drastico è avere un obiettivo in mente sapere che è lì ma giorno dopo giorno piano dopo piano passettino dopo passettino piano piano raggiungerlo non si può raggiungere dall'oggi a domani un certo obiettivo certo lo si può fare se sei figlio di Enzo Ferrari magari no? allora magari potrebbe essere facile raggiungere ma anche Enzo Ferrari io ho studiato la sua storia ha raggiunto quello che ha raggiunto provate a guardare il film vi consiglio di guardarlo è un film mi sembra di 4 ore e che l'ha fatto il suo figlio al di là di quello che pensate di Enzo Ferrari provate a guardare dove è dovuto passare per raggiungere quello che ha raggiunto quindi piccoli pass un grande sogno nel cassetto perseveranza perseveranza è la parola d'ordine la ripeto e sarà ridondante perseveranza avere il sogno sapere che è lì lo attacchi nel tuo nel tuo specchio sai che è lì e lo vuoi raggiungere giorno dopo giorno qualsiasi cosa possa accadere lo raggiungerò qualsiasi montagna mi appaia davanti la supererò questo deve essere innanzitutto la mentalità di una persona che vuole raggiungere quel desiderio e piano piano raggiungerlo come si fa? si fa innanzitutto prendendo il primo libro per le mani quale libro? mi faccio una domanda poi vado in libreria e mi osservo intorno poi piano piano il libro giusto arriva arriva anche la risposta giusta voi dite ah mamma no no arriva anche la risposta giusta voi fatevi la domanda giusta e la risposta giusta arriva in quale modo? con un libro che vi appare davanti alle mani con un video di mickey martinazzi anche o un audio di mickey martinazzi arriva anche un amico che vi racconta un'esperienza la sua esperienza e all'interno di quell'esperienza vi dà una risposta può succedere che trovate vi sedete su una panchina trovate un libro di fianco a voi che qualcuno se l'è dimenticato magari quel libro in esso è contenuta la risposta che voi cercate quindi le vie possono essere infinite quindi iniziate da qualche parte volete il controllo sulla propria vita dovete iniziare da voi stessi altrimenti sarete sempre sempre vittima del fatto vittima delle circostanze vittima e penserete ah ma io sono sfortunato ah ma io sono sfigata ah ma il datore del lavoro è uno stronzo ah ma il governo è un ladro ah ma pago troppe tasse sempre in questa in questa ruota del criceto che vi vi porta dentro e vi porta in questo buco nero invece voi dovete cercare di non avvitarla ma svitarla e quindi uscire uscire verso la luce non può piovere per sempre naturalmente dovete iniziare da voi stessi non potete aspettare gli altri gli altri certo ci sono come io aiuto tanti proprietari nel momento giusto li accompagno nel momento giusto certo però dovete iniziare da voi poi il proprio mentore arriva poi la propria risposta arriva io sto facendo per esempio un percorso negli ultimi 3-4 mesi molto profondo su me stesso ha a che fare un po' con la legge di attrazione anche se non ci credete però in realtà la legge di attrazione che cos'è? è cambiare se stessi attraverso appunto un percorso e poi facendo delle cose che giorno dopo giorno ti portano ad avere quello che tu desideri questo in realtà che poi voi crediate un qualcosa di più che non crediate crediate semplicemente che le vostre azioni vi porteranno in quel percorso perfetto però se voi non iniziate a cambiare dentro di voi qualcosa non potrete mai arrivare a un percorso diverso quindi se voi fate sempre le stesse cose raggiungerete sempre lo stesso obiettivo nel momento in cui inizierete a fare cose diverse raggiungerete un obiettivo diverso però che cosa succede? se voi non cambiate dentro avete sempre la stessa mentalità pensate sempre allo stesso modo pensate che gli altri siano degli stronzi pensate sempre che il governo sia un ladro pensate sempre che i soldi sono pochi pensate sempre che il mondo sia una merda scusate l'espressione colorita ma ogni tanto ci vuole e mi perdoneranno le signore però se pensate tutto questo raggiungerete sempre l'obiettivo di quei pensieri dei pensieri che hanno portato a quell'obiettivo quindi i pensieri vi porteranno in quello che voi pensate nel momento in cui voi inizierete a cambiare inizierete a pensare in un modo diverso inizierete a pensare che c'è qualcosa di diverso inizierete a pensare che per cambiare quello che vi circonda dovete iniziare a cambiare voi stessi piano piano giorno dopo giorno farete delle cose diverse incontrerete persone diverse allontanerete le persone negative che attualmente stanno intorno a voi quindi ci sono delle persone negative che vi portano negatività e che ne avete due maroni pieni o due ovaie piene e quindi li volete allontanare perfetto dovete iniziare da voi stessi poi piano piano quelle persone e quelle circostanze vi assicuro al 300 per 1000 o al 1000 per 1000 che scompariranno non possono scomparire da un giorno all'altro scompariranno piano piano in proporzione al vostro cambiamento ma se non iniziate voi non inizierà nessuno dall'esterno nessuno vi verrà a tirar fuori dalla cacca dovete iniziare voi stessi questa mattina io prima di iniziare il lavoro vi racconto un po' di me quello che faccio mi sto educando avete capito bene mi sto educando perché è educarsi a fare queste cose perché se i vostri genitori non ve l'hanno insegnato non ve l'ha insegnato nessuno dovete imparare voi stessi su voi stessi come educarvi quindi tutte le mattine per 20-30 minuti faccio una piccola meditazione che cos'è una meditazione? chiudersi in se stessi chiudere semplicemente gli occhi io faccio degli esercizi di visualizzazione ma perché in realtà ho fatto un certo tipo di percorso poi voi potreste semplicemente tenere gli occhi chiusi e star fermi mezz'ora e lasciar fluire i vostri pensieri provate a iniziare da lì provate a iniziare dai vostri pensieri lasciate fluire senza fermarli e vedrete che la vostra testa dentro la vostra testa ci saranno tanti di quei pensieri ma tante di quella roba che non è roba vostra purtroppo la mente mente tanto qualcuno se mi ha ascoltato sa come la penso e quindi vi riempie la testa di tutta sta schifezza qui e quindi anche le scelte che voi farete le persone che incontrerete sono determinati da tutta questa robaccia che c'è dentro altro consiglio che do ma tanto sapete già come la penso spegnete i televisori io non lo ascolto il televisore il telegiornale da anni non ascolto più la radio da tempo anzi mi metto su un audiobook che vi consiglio di farlo anche voi oppure studio appunto da degli audiobook oppure semplicemente me ne sto tranquillo senza bisogno di informazioni esterne che vi riempiono la vostra testa dovete scegliere signori quello che ascoltate dovete scegliere quello che mettete dentro la vostra testa dovete scegliere quelle persone che incontrate come le scegliete incominciando a cambiare su voi stessi poi piano piano vi accorgerete che c'è un mondo completamente diverso da quello che voi siete abituati a vedere ma voi mi direte ma mica la realtà è questa certo ma la vedrete con occhi diversi e quindi starete molto meglio con voi stessi inizierete a non avere tutti quei pensieri ridondanti che vi devastano la mente io li ho ma in piccolissima parte la maggior parte del tempo non li ho più quindi la mia mente non è completamente vuota certo una parte dei pensieri perché altrimenti sarei già morto senza pensieri però sono selezionati se so che cosa metto dentro la mia testa so che cosa sto pensando perché alcune volte mi rendo conto che la mia mente mente quindi i miei pensieri sono pensieri determinati dalla quello che crea la mia mente un po' particolare ma dovremmo fare un percorso particolare per parlare di sta cosa qui quindi non vi sto a tediare quindi iniziate da un piccolo libro iniziate da un piccolo audio iniziate a fare una cosa e abituatevi a farla in un certo modo ma se non iniziate giorno dopo giorno voi continuerete a fare le stesse cose incontrerete le stesse persone avere sempre i stessi soldi avere sempre i stessi problemi avere sempre i problemi con i vostri parenti essere incazzati quando andate sul lavoro avere il capo area che vi dice quello che dovete fare avete un'identità completamente che quando vi guardate allo specchio non sapete chi siete perché io ho locatori con il quale ho una certa confidenza mi dicono Michele io ho due persone alcune volte ne ho una da una parte una dall'altra e non so quale sono e quindi è un problema ma di identità ma questo arriva sempre da se stessi quindi questo percorso questo audio è motivazionale iniziate da qualche parte iniziate anche solo con 10 secondi al giorno a fare una certa cosa però iniziatela i 10 secondi dopo 30 giorni incominceranno a diventare 300 secondi in un anno sono 3600 secondi incominciano a essere delle ore e quindi quelle ore lì piano piano vi porteranno a fare delle scelte diverse però se non iniziate signori tutto quello che vi circonda sarà sfortuna sarà fatto sarà sfiga sarà il governo è così ho sempre pochi soldi non sto facendo quello che voglio la mia moglie non è quella che la volevo i miei figli mi fanno incazzare il mio datore di lavoro è un testo di cazzo scusate le signore per questa espressione colorita e sarà sempre sempre uno schifo invece nel momento vi assicuro mille per mille che la vostra vita migliorerà avete il controllo vi capiteranno esperienze belle vi capiteranno qualche esperienza negativa ma poi la supererete avendo una mentalità di un certo tipo la supererete con un certo con un certo tipo di atteggiamento ma se non iniziate signori sarà sempre così scusate se sono ridondante ma voglio ribadire questo concetto vi consiglio di riascoltarvi questo messaggio per chi ha voglia di fare un certo tipo di percorso nel senso che interiore intanto inizia poi da qualche parte da qualche parte arriveranno anche le persone giuste e farete anche le scelte giuste sappiate che la società è divisa per un 80% che sarà sempre nella melma poi c'è un 20% questo 20% è diviso da 15% 4% e 1% quindi la società è divisa così voi decidete in quale percentuale volete stare volete stare nell'1% o anche semplicemente nel 4-5% perfetto o anche nel 15% di quelle persone che hanno una vita un po' più ricca volete essere in 4% di quelle persone che hanno una vita meravigliosa volete essere nell'1% di quelle persone che hanno una vita straordinariamente meravigliosa perfetto dovete iniziare da voi stessi passo dopo passo e piano piano dalla melma ne uscirete parola di Mickey Martinazzi lo sto provando su me stesso non che avessi avuto una vita pessima anzi ho sempre avuto una vita meravigliosa però negli ultimi anni ho scoperto un metodo per per avere una vita ancora di più meravigliosa ma anche perché in termini di successo se vuoi qualcosa di più aspiri a molto di più devi fare cose diverse che facevi prima altrimenti non riesci a farle e quindi io che aspiro molto ho un sogno nel cassetto molto forte molto potente ma soprattutto per me stesso ma anche per voi come proprietari e quindi se lo voglio raggiungere devo cambiare il mio modo di essere la mia mentalità non posso aspettare che gli altri arrivino a salvarmi se non lo faccio io se non inizio da me stesso quindi spero che questo audio per chi l'ha capito lo riascolti che possa essere motivante e usate il vostro tempo in modo il più cioè una cosa adesso allora signori noi abbiamo un timer che va al conto alla rovescia prima o poi purtroppo arriviamo un momento che anche noi ce ne andremo da questo mondo è inutile negarlo ma non ci voglio pensare sei sfigato no no non è per essere sfigato è dar valore a quello che faccio ogni giorno e se voi iniziereste ad avere un orologio con x migliaia di ore avanti a voi e sapere che ogni giorno che passa sono 24 ore in meno e vedete che le ore diminuiscono poi io vi auguro di arrivare ai 120 130 anni io aspiro di arrivare ai 123 125 anni spero di arrivarci mia nonna ne ha quasi 100 quindi è ancora lucida di testa e spero di arrivarci la mia bisnonna ne aveva 102 quindi io spero almeno di passare i 120 e non lo so e quindi però voglio sfruttare il mio tempo al meglio e non permettere a niente a nessuno di disintegrarlo nemmeno i telegiornali di rimanere lì davanti con tutto rispetto rintronito per mezz'ora e di ah signori morte di qua economia di là tragedia di qui tragedia di là e poi vi danno una buona serata no assolutamente il mondo se lo guardaste dall'alto e lo vedeste con occhi diversi il mondo è meraviglioso guardate i fiori guardate gli uccellini guardate gli animali guardate che piantate un seme e cresce qualcosa dopo 20 anni c'è una quercia il mondo è meraviglioso quindi non permettete niente a nessuno di disintegrare il vostro preziosissimo tempo sfruttatelo al meglio crescete in modo interiore cioè con voi stessi fate una crescita personale e vedrete che vi si spalancherà tutto un altro mondo per questa giornata è tutto da Mickey Martinazzi anche a presto